buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 6 aprile 2024 siamo alla vigilia di un'importante giornata per quanto riguarda fano domani ci saranno le elezioni primarie per quanto riguarda i candidati sindaco del centro sinistra 4 i candidati in linza ne parleremo dopo ci sono diversi appuntamenti sono ancora appuntamenti elettorali oggi verranno inaugurate due sedi una del centro destra una del centro sinistra comunque ne parleremo e intanto passiamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere il santo che si festeggia oggi ed eccolo qui nella grafica e san pietro da verona visse nel tredicesimo secolo e nel tredicesimo secolo fu un santo molto fu un anno molto un anno fu un secolo molto molto prolifico per quanto riguarda i santi la spiritualità dilagò un po in tutta europa e ci furono molte persone che vissero una vita molto molto morigerata fatta anche di sacrifici e spesso anche del martirio come appunto quello di san pietro da verona dopo aver frequentato l'università di bologna pietro andò entrò in un convento domenicano consacrato sacerdote fu un instancabile predicatore in modo particolare nell'italia centrale nell'italia settentrionale e fu assassinato dagli eretici sulla via che lo avrebbe portato a como e morì santamente ecco perché la sua fama poi si è sparsa un po in tutta italia e ancora oggi viene venerato come un santo di grande dotato di grande grande spiritualità vediamo ora le previsioni del tempo perdura il tempo buono sulla regione tempo stabile solleggiato le temperature sono comprese tra i 18 e 20 gradi la minima 11 gradi e nell'interno abbiamo venti deboli sulle coste da nord est nell'interno da nord nord ovest ebbene il mare è leggermente mosso comunque avremo una giornata primaverile questo è quanto ci profilano le previsioni del tempo e vediamo anche che il sole è nato è sorto stamattina alle 6 e 39 e tramonterà alle 19 e 39 ancora giornate sempre più di luce per quanto riguarda in modo particolare il pomeriggio ed ora apriamo i giornali li vediamo sul Corriere Adriatico questa mattina la pagina di Fano che si apre con una protesta è un'osservazione che in realtà è una protesta sono i residenti intorno alla zona dell'ex zuccherificio a Ponte Metauro che si sono attivati e hanno avanzato una osservazione al piano regolatore generale che sappiamo essere in approvazione nelle sedute del consiglio di lunedì e martedì prossimo ebbene i residenti non ne vogliono sapere del polo logistico quella soluzione che l'amministrazione comunale avrebbe trovato insieme agli imprenditori, ai proprietari dell'area per cancellare quei capannoni, quei scheletri di capannoni che sono stati realizzati tanti tanti anni fa e hanno lasciato un po' tutta l'area in abbandono ebbene i residenti con questa osservazione intendono così cassare il polo logistico perché secondo loro darebbe un impatto ambientale particolarmente critico vorrebbero che non ci fossero rumori in modo particolare il rumore del traffico perché poi ovviamente il traffico li aumenta si tratta di un'area dedicata allo stoccaggio delle merci alimentari e quindi ci sarà un via vai di camion chiedono il recupero della originaria destinazione del piano regolatore consona a un equilibrato sviluppo urbanistico in quella zona in continuità con un'area verde che si estende poi fino alle sponde del metauro bisognerà vedere però insomma se i proprietari poi saranno disposti a ritornare all'antico cosa che fino ad oggi invece ha lasciato così l'area in abbandono perché poi i proprietari si investono sostengono le spese ma vogliono poi la loro retribuzione e se questa non arriva ovviamente l'investimento non si fa e le cose rimangono così come sono e beh sarà un bel busillis come si dice a Fano da parte dell'amministrazione comunale risolvere questo nodo gordiano che è difficile insomma da essere sciolto ed ora passiamo invece all'aspetto politico di questo weekend che è un weekend caratterizzato da una attesa importante perché poi si vuole sapere dei quattro candidati tra Samuele Mascherin, Cora Fattori, Etienne Lucarelli e Cristian Fanesi chi la sfangherà domani durante le elezioni sarà il candidato sindaco di tutto il centro-sinistra ebbene ieri intanto è stata presentata la lista dei consigli, degli aspiranti al Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia lo ha fatto la segretaria Loretta Manocchi insieme ad Elena Leonardi che è senatrice ed è la coordinatrice regionale della Forza Politica c'è stato anche il coordinatore provinciale Nicola Baiocchi e poi ovviamente tanti volti noti che si ripropongono al Consiglio Comunale ma anche tanti nomi nuovi e vediamo che la più giovane è Giorgia Valentini di 23 anni mentre il più anziano è Giuseppe Pierpaoli di 70 un pensionato, infermiere in pensione che è stato capogruppo consigliare di questa tornata amministrativa che volge al termine ha fatto il gruppo insieme a Lucia Tarsi che ugualmente si ripresenta alla prossima tornata amministrativa ma troviamo anche altri nomi noti come quello di Francesco Cavalieri quello di Federico Sorcinelli Andrea Montalbini che hanno avuto un'esperienza in passato per quanto riguarda Fratelli d'Italia e il partito da cui il partito stesso proviene ebbene che poi non è mancata la candidatura di Maria Flora Gian Marioli presidente di Missionaria dell'Ente Carnevalesca con un passato pseudopolitico che deriva dall'essere stata nominata a responsabile del centro donna al tempo di Maria Antonia Cucuzza anche l'esponente appunto della destra cittadina e poi abbiamo qui tutta la lista sono 21 i candidati di Fratelli d'Italia ci sono molti molti nomi nuoti la stessa Loretta Manocchi presenta la sua candidatura lei è la segretaria appunto del partito e vediamo qui a fondo pagina invece una lettera aperta che il Samuele Mascherin invia al candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi ovviamente Luca Serfilippi era presente ieri alla presentazione della lista di Fratelli d'Italia perché Fratelli d'Italia sostiene la sua candidatura a sindaco della città si parla del tema della sicurezza si è scoppiato in modo virulento in seguito all'aggressione che c'è stata alla rissa che c'è stata sabato scorso in pieno centro storico a Fano in quel caso il centrodestra è insorto il primo a insorgere è stato proprio il candidato sindaco Serfilippi che ha chiesto all'amministrazione comunale di approvare un provvedimento più incisivo per quanto riguarda il controllo del centro storico accusando Seri di aver lasciato un po' questo tema in abbandono dobbiamo dire che per l'esattezza della informazione la questione dell'ordine pubblico dipende essenzialmente dai carabinieri e dalla polizia a supporto ci sono anche i vigili urbani che dovrebbero essere incrementati secondo il centrodestra e questo è proprio un impegno che ha assunto la Loretta Manocchi ponendo la sicurezza come un tema prioritario del programma del suo partito in caso di vincita delle elezioni ebbene però Mascarini incalza Serfilippi dicendo soprattutto che il problema di la sicurezza a Fano dipende anche dal governo centrale che è governato dal centrodestra anche perché il organico del commissariato e dei carabinieri è carente rispetto ad una città di 60.000 abitanti durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario nelle Marche ha detto Samarin il procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona ha evidenziato nella sua relazione come il territorio regionale sia a rischio di infiltrazioni mafiose potresti chiedere ha detto sempre Mascarini a Serfilippi al governo Meloni quali misure di prevenzione e controllo abbia messo in atto sino ad oggi per controllare l'infiltrazione mafiosa insomma c'è un batti ribatti di responsabilità per quanto riguarda sta avvenendo nella città di Fano e vedremo come andrà a finire come sempre questo articolo di Spalla invece forse un po' discosto ma è molto molto importante perché ci rivela delle istruzioni al voto di domani primari al centro-sinistra al voto domani dalle 8 alle 20 ebbene si chiuderanno alle 20 e dallo scrutinio potrebbe emergere subito il candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra perché lo spoglio delle schede avviene subito dopo il candidato sindaco della coalizione un'eventualità che si realizzerebbe se il vincitore ottenesse almeno il 40% dei voti distanziando il secondo di almeno 5 punti percentuali in caso contrario se nessuno dei quattro raggiunge il 40% dei voti i primi due andrebbero al ballottaggio e il ballottaggio si effettuerebbe domenica 14 aprile la domenica successiva si potrà votare in 10 seggi il giornale elenca dove si trovano i seggi ma sono quelli dove poi gli elettori svolgono normalmente il loro diritto elettorale insomma quando ci sono le elezioni amministrative politiche referendum e via dicendo e qua si può leggere dove ognuno può andare a votare bisogna pagare 2 euro per le spese di organizzazione e portare il certificato elettorale in documento di identità e poi vediamo un altro articolo molto molto interessante per quanto riguarda la città di Fano perché proprio ieri è stato rivelato un finanziamento che permette all'amministrazione comunale di risolvere il grave problema dell'allagamento della statale adriatica nei pressi di San Lazzaro tra Viale della Repubblica e Via del Bersaglio un luogo che si allaga molto molto facilmente in occasione di piogge particolarmente intensi procurando danni danni alle imprese che si affacciano sulla strada ed una di queste è la SRT la grande impresa fanese che si occupa della diciamo così della cura e la manutenzione dei binari e quindi costruisce dei macchinari che poi possono rimettere in sesto i binari quando questi sono troppo vecchi o sono danneggiati per problemi incidentali che si verificano sulle ferrovie ebbene che cosa è accaduto? è accaduto che dal generale Figliuolo che è commissario per quanto riguarda la copertura dei danni provocati dall'alluvione del 2023 sono provenuti 5 milioni di euro per Fano e questi 5 milioni attraverso la protezione civile verranno proprio impiegati per realizzare finalmente quel progetto che è stato redatto dall'Aset Spa che coinvolgerebbe le acque in un grande collettore che poi passerebbe sotto la ferrovia e smaltirebbe le acque parte al depuratore che sono le acque nere e parte invece in mare ma oltre la linea della balneabilità grazie a quell'impianto di sollevamento che è stato realizzato in Sassonia ebbene dal generale Figliuolo 5 milioni per scongiurare gli allagamenti il progetto esecutivo sarà terminato tra due o tre mesi poi ci sarà la gara per l'attribuzione dei lavori e nel giro di due massimo tre anni i lavori dovrebbero essere conclusi sono lavori piuttosto impegnativi e poi il comune ha chiesto altri 3 milioni in modo particolare in modo che si raggiunga la cifra di 8 milioni e sembra che questi 3 milioni vengano pure concessi tutto questo è stato presentato ieri dal sindaco Massimo Seri dal vice sindaco Cristian Fanesi dall'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori e dai tecnici di Asset Spa in questa azienda la SRT che è proprio lì sul posto e quindi anche lei soffre dei problemi di allagamento per quanto riguarda questa disfunzione idrica ed ora diamo un'occhiata invece a questo articolo di cronaca che appare a fondo pagina stalking di vieto di avvicinamento per un 38enne non accetta la fine del rapporto come accade spesso il giudice ordina di applicargli il braccialetto elettronico ebbene si tratta di un 38enne che ha reagito in modo sconsiderato alla fine di un rapporto con la sua ex l'ha perseguitata voleva a tutti i costi così che la la sua relazione non si interrompesse e l'ha perseguitata con telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte fino a procurargli uno stato d'ansia che non poteva più perseguire addirittura urlava sotto casa in maniera inconsulta e allora che cosa è accaduto è accaduto che il giudice ha applicato il divieto di avvicinamento alla sua vittima entro 500 metri e di comunicazione con la parte offesa e poi gli ha dato l'applicazione del braccialetto elettronico non appena sarà disponibile il dispositivo difeso dall'avvocato Marco Defendini l'uomo ha negato le accuse parlando di messaggi reciproci in cui lui voleva chiedere il motivo della fine della relazione secondo lui sono messaggi tranquilli invece secondo la vittima sono messaggi piuttosto irruenti e allora passiamo a Pergola a Pergola abbiamo un bel finanziamento di un milione tondo tondo di euro per la scuola primaria per renderla più efficiente e sicura ebbene si tratta della scuola Binotti istituto comprensivo Binotti e i lavori riguardano la messa in sicurezza della struttura saranno realizzati dall'impresa Guidi di Serra Sant'Abbondio ed inizieranno dopo il termine dell'anno scolastico i lavori di efficientamento energetico domenica domenica andiamo a Mondolfo dopo aver votato a Fano si può andare tranquillamente a Mondolfo a mangiare gli spaghetti ebbene si tratta della settantaseesima edizione della spaghettata di Mondolfo spaghetti cotti cucinati con una ricetta che ha ricevuto anche un riconoscimento individuale si tratta di spaghetti con tonno e alici molto molto appetitosi in un insieme di iniziative di festa e primavera e quindi anche il tempo dovrebbe aiutare per passare un pomeriggio diverso dal solito con una iniziativa gastronomica di grande attrazione quindi andiamo a Mondolfo spaghettata tra gastronomia sport e solidarietà domani l'appuntamento di primavera organizzato dall'Avis sezione Tonnini Guido Tonnini ed ora andiamo anche a Senigallia a Senigallia c'è stato un test di Pasqua ok ha la stagione forte crescita delle prenotazioni mentre un po' affano pesaro la Pasqua è andata così così sembra che a Senigallia sia andata meglio 50% delle prenotazioni nell'ultimo ponte per quanto riguarda i hotel parte con ottime prospettive la stagione turistica nella spiaggia di Velluto un ponte di Pasqua discreto e registra un maggiore interesse per l'estate rispetto all'anno scorso ieri il punto della situazione è stato fatto dall'assessora Simona Romagnoli insieme alle associazioni degli albergatori per fare un bilancio sull'attività di Pasqua e c'è stata una generale soddisfazione insomma si è in attesa però insomma le premesse sono abbastanza buone e poi vediamo un attimo quello che dice il Corriere Adriatico sulla pagina regionale in fatto di sanità perché la notizia è interessante liste d'attesa ecco il piano Marshall della regione Marche recuperiamo 160.000 prestazioni ha dichiarato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini la regione stanzia 13,2 milioni di euro per il 2024 e c'è un ampio ricorso anche al privato Saltamartini previsti anche screening oncologici e 3.000 ricoveri in più questo è quanto si prospetta per quanto riguarda la sanità invece per quanto riguarda Pesaro parliamo di viabilità perché si lavora lacrimente anche di notte dice il giornale per realizzare questa rotonda a muraglia in cui dovrebbero convogliare in cui dovrebbe convogliare il traffico che proviene da tutte le bretelle di Pesaro questa mattina l'apertura ufficiale dell'attesa circonvalazione di muraglia oggi diventa realtà l'arteria che rappresenta un collegamento dalla fine dell'attuale interquartieri all'altezza di Santa Veneranda fino all'ospedale di muraglia andando ad alleggerire il traffico interno ed esterno alla città sia negli spostamenti verso ovest come la Monte Labattese e l'entroterra e nord nei collegamenti successivi all'interquartieri verso il lato di Torraccia quindi una scorrevolezza in più per quanto riguarda il traffico anche quello di attraversamento della città di Pesta ed è stato un intervento chirurgico di grande qualità quello eseguito nell'ospedale San Salvatore di Pesaro dalla responsabile della ortopedia il dottore Memè a 103 anni viene operata al femore e dopo pensate 48 ore appena due giorni riprende a camminare 103 anni come sto? sto bene dice insomma la figlia mamma è una forza della natura è il suo primo intervento in ospedale ha passato 103 anni senza mai andare all'ospedale se non in visita a qualcuno lei non è stata mai ricoverata adesso l'è stata ma dopo due giorni è veramente in piedi ed è veramente una forza della natura passiamo ora al resto del Carlino e vediamo come la prima pagina in prima pagina c'è l'annuncio di una notizia che era in Fieri da diverso tempo e sembra che ora si quagli si concretizzi seri in corsa per le europee con calenda la voce sembra confermata dice il Carlino mancherebbe solo l'investitura da parte degli organi centrali del partito saranno giorni decisivi Calenda deve dare l'ok per questa candidatura di Massimo Seri in questo caso Fano avrebbe due candidati alle europee uno per il centrodestra che è Mirko Carloni esponente della Lega e uno per il centrosinistra insomma per la parte opposta che è quella di Massimo Seri nel partito di calenda nel partito di azione per il momento però da parte del diretto interessato c'è un no comment all'annuncio ufficiale mancherebbe poco insomma mancherebbe pochi giorni fratelli d'Italia in campo ridare valore a Fano è una delle dichiarazioni fatte da Loretta Manocchi quando ha presentato ieri la lista dei candidati e poi vediamo che c'è ancora un bel evento a Fano che si prospetta per il 12 aprile prossimo il Galà di Sky Sport calciomercato l'originale questa è un'iniziativa che si è svolta già l'anno scorso con grande successo verrà replicata a Fano nel mese di giugno e intanto venerdì prossimo ci sarà una serata con libero accesso al teatro della fortuna in cui verranno presentate tutte le tappe della popolare trasmissione televisiva in Italia e quindi ci saranno un po' anche le rappresentanze delle altre città che converranno a Fano che è quasi un punto di riferimento i presentatori gli autori di questa trasmissione sono rimasti molto molto colpiti dall'accoglienza che la città della fortuna ha loro riservato l'anno scorso e quindi quest'anno intervengono con grande entusiasmo fare puntati sui doni impegnati agli europei di tennis ed è il torneo di tennis riservato ai sacerdoti ai preti che si svolgerà la settimana prossima nei campi del centro tennis della trave una iniziativa organizzata da don Francesco Pierpaoli il parroco del Vallato anche lui giocatore di tennis e verranno pensate vescovi e preti da diversi paesi europei dalla Slovacchia dalla Ceca dalla Romania insomma diversi paesi che verranno rappresentati e ci sarà anche ovviamente anche dei rappresentanti italiani che si sfideranno con la racchetta nei campi da tennis una bella iniziativa che evidenzia come il clero si mostri in una dimensione più vicina a noi più contemporanea più attuale e quindi quella più recepibile vediamo ancora l'articolo che riguarda gli allagamenti di via Pisacane sul resto del Carlino il sindaco Massimo Seri intervento straordinario che sarà coperto con risorse reperite a livello nazionale sono gli 8 milioni messi a disposizione dal generale Figliuolo ma prima di chiudere voglio farvi vedere anche questo articolo della pagina di Urbino si alza il sipario sulla lista futura Crespini il cittadino protagonista la candidata sindaco parte da Canavaccio perché la periferia diventerà il fronte della città che vogliamo è un impegno elettorale nei confronti appunto degli urbinati e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa vi auguro una buona domenica un buon weekend e noi ci risentiamo sempre alle 7 di lunedì prossimo grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci